Così segui fra Camillo e tra quelle fredde mora del convento trovai la felicità allo stato puro diventai padre Pio da Pietrelcina diventa santo questa frase riempiva la mia giornata prega per te stesso ma soprattutto per gli altri peccatori dona tutto te stesso agli altri anche se gli altri proveranno a demolirti e più forte sarai tu più duri e laceranti saranno i loro tentativi di abbatterti con la menzogna e la calunnia tu resta saldamente legato alla verità alla verità Grazie 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 Grazie